Voglia di normalità, voglia di bellezza. Secondo Milena Betto, storica commerciante di Gallarate e consigliera Ascom, i saldi, in partenza al 5 gennaio, sono quest'anno particolarmente attesi. Dopo due anni così difficili, dice Betto, il desiderio di farsi un regalo e di concedersi una coccola è forte. Il dicembre, parlando con tanti miei colleghi, è stato un mese discreto, discreto rispetto all'anno scorso e non di sicuro prima Covid, però prima Covid era sicuramente un altro mondo, ora dobbiamo fare i conti con questo di mondo. E quindi siamo speranzosi che con i saldi si torni, non dico la normalità, ma quasi. E questo perché siamo speranzosi, perché io ho visto specialmente nei miei negozi che tanti clienti, tante donne, tante persone sono venute proprio a vedere, quindi hanno voglia di tornare a comprare ed acquistare nei negozi. Perché sono venuti prima a vedere? Per magari cercare di trovare qualcosa che troveranno dopo quei saldi come un affare. Quindi io do un messaggio sicuramente positivo. Speriamo solo che il ritorno alla normalità sia ormai veloce. Tutta questa incertezza ci rende solo più tristi e più insicuri, conclude Betto. L'unica preoccupazione è la continua confusione, il continuo non sapere in che zona, in che colore potremmo essere domani. Ecco, questo ci fa male, non giova nessuno, non giova al commercio e speriamo che questa confusione termini al più presto.